È un gesto molto semplice, porta via pochissimo tempo, ma si dona tanto. È importante perché permette di salvare non una, ma tante vite. 14 giugno, la giornata mondiale del donatore di sangue, un momento importante per ricordare come con un piccolo gesto di solidarietà si possano salvare tantissime vite. 55.000 ai donatori nelle marche, 100.000 le donazioni, numeri che raggiungono quasi quelli pre-pandemia. Il sangue dalle marche poi supera i confini della regione, diventando una risorsa per tutta Italia. A livello regionale stiamo dando anche sacche fuori regione, quindi per noi va molto molto bene. Il problema è che dobbiamo aumentare i donatori giovani. Ci servono donatori dai 18 ai 27 ai 28 anni. Non mancano però i limiti, con il ricambio generazionale servono più giovani donatori. E l'allarme riguarda anche il plasma, protagonista proprio della recente campagna Avis, per sensibilizzare non solo sulla donazione di sangue, ma soprattutto di plasma. Per fare la differenza puoi fare la somma, è lo slogan dei manifesti per sensibilizzare su un tema così importante. La giornata per il donatore è importante perché è un momento per poter ricordare quanto sia importante la raccolta di sangue, una raccolta di sangue e di plasma, raccolta che è, nella nostro paese, gratuita, responsabile, anonima. E' questo quello che rende particolare e differenziato rispetto a tanti paesi in cui invece è a pagamento, in quanto consente di fornire, di dare sicurezza e garanzia della raccolta di sangue e plasma per il donatore ma anche per il ricevente.